buonasera buonasera angelo buonasera vogliamo aspettare un altro po aspettiamo qualche minuto sì qualcuno comincia a collegarsi se no come si dice ce la suoniamo e ce la cantiamo il che non va bene approfitto per condividere questa diretta con anche tu adesso comincerai a sentire clean 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 ma sono le tue condivisioni poi non mi non riproverai me ok ok inizio anch'io sono spariti i gruppi perché hai messo tutti la prova sì allora vediamo un po condivido anche sul mio profilo speriamo di attirare qualcuno volevo dire che se andate al post che ho messo poco fa quindi sempre sul gruppo sotto questo della diretta trovate il link del nostro questa diretta per cui se qualcuno in extremis volesse unirsi a noi perché abbiamo problemi di lettori problemi di lettori siamo solo noi stavolta non si è non si è prenotato nessuno però mettere un incentivo economico secondo me no 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 dobbiamo continuare in maniera così disinteressata pura e spontanea secondo me possiamo iniziare perché abbiamo già una decina di abbiamo già una decina allora vabbè comunque noi siamo qui stasera per parlare di un libro scelto attraverso il nostro sondaggio quindi scelto da voi a maggioranza avevamo fatto una lista di dieci autori e romanzi che a nostro parere in particolare a parere di angelo che tra di noi è l'esperto di narrativa italiana del novecento potevano essere esperto un parolone diciamo che sono un millantatore a cui riesce bene quello che dice dai ma quello se lo dici in privato a me non dirlo pubblicamente e quindi alla fine la maggioranza aveva scelto aveva votato per questo romanzo di carlo cassola il romanzo più famoso di carlo cassola la ragazza di bube uscito nel millenovecentosessanta quindi un po più di 60 anni fa e noi siamo qui adesso a parlarne a parlarne e anche a leggerne qualche brano qualche piccolo passo anche se avremmo preferito avere qualche lettore diciamo esterno alla nostra così a questa nostra società e allora intanto che qualcuno si faccia avanti magari diciamo angelo qualcosa su questo scrittore ma si diciamo lui è un cui è uno scrittore sui generis è una persona che è molto schiva che ha vissuto come dire ha interpretato il ruolo di scrittore appieno vissuto a 360 gradi e è morto di recente cioè di recente nell'ottantasette e quindi è un autore molto amato anche se di nicchia però è quello che diciamo interpretato un po' la storia italiana soffermandosi su soprattutto con questo romanzo su un periodo molto particolare formativo diciamo e lui ha le caratteristiche che piacciono a noi a me a te nel senso che parla di grandi temi come in questo caso il periodo successivo alla guerra alla liberazione e parla di una storia piccola e di un amore di un amore di tra due persone e mara una giovane come dire ragazza di provincia e che si innamora di un di un eroe della resistenza e di che di che nome il bube arturo cartellini detto bube si detto bube e poi lui che succede senza dire svelare tutto ora si dice spoilerare senza dire chi è il colpevole e come dire fa un guaio diciamo che ha dei problemi con la giustizia e viene condannato al cancere una fiera molto pesante credo mi sembra quindici anni e quattordici anni e però ecco come si come direbbe mia nonna una volta mia nonna che non c'è più diceva io mio no da tuo nonno mi sarei dovuto separare almeno 30 volte non l'ho mai fatto perché c'avevo i figli poi sono arrivati i nipoti c'avevo la roba da difendere no per chiaramente la roba e non l'ho mai fatto invece questa donna c'è proprio questa donna fa come faceva mia nonna praticamente si immola aspettando questo questo amore ecco questo un po in questo però dobbiamo parlare perché anche l'interpretazione questo è un romanzo tra l'altro che è uscito nel 1960 qualche anno dopo nel 64 credo luigi gomencini con claudia cardinale molto un film che insomma ebbe anche dei premi un film che abbiamo molto successo ed è questo è rimasto credo il romanzo più famoso di carlo cassola parlano anche di un grande valore di altri come in particolare il taglio del bosco o fausto e anna però ecco io credo non so se sei d'accordo con me che il maggior successo di questo romanzo è proprio nel fatto di affrontare non solo una storia privata come gli altri romanzi perché dopo aver scritto questo cassola abbandona un po i temi come dire storici politici e si dedica più al romanzo esistenziale forse però proprio il fatto di toccare in maniera non convenzionale suscitando anche parecchie polemiche il tema dell'immediato dopo guerra quindi anche quello che aveva gli strascichi della guerra civile insomma della lotta di liberazione in modo appunto non scevro da polemiche anche nei confronti della di alcuni aspetti della resistenza anche per bocca di di bube nella nell'ultima parte del romanzo questo gli costò diciamo veramente delle polemiche anche delle stroncature no ehm anche stroncature illustri che però appunto adesso col senno di poi bisogna vedere quanto fossero stroncature sul piano letterario e quanto invece non magari non fossero stroncature sul piano politico visto diciamo il tema così anche delicato e e scabroso ma sì sì eh allora io penso che questo da quello della lettura che do io che che a me ad esempio non convince il fatto che sia un romanzo neorealista come si voleva dire anzi è un romanzo psicologico secondo me perché è bellissima e quelle descrizioni della psicologia dei personaggi e e poi un'altra cosa che che appunto a volte è stato criticato soprattutto da una parte perché e non è un romanzo ideologico non c'è una scelta nonostante eh si capisce per chi parteggia l'autore però eh è come se lui osservasse in maniera di staccata eh e il lettore capisce che che lui prende la parte eh prende parte eh non rimane insomma ma ma è come se non so se hai avuto questa impressione nel leggerlo sicuramente sì sono d'accordo prima di tutto sul fatto che non si tratta di un romanzo neorealista anche perché vabbè da una parte nel 1960 ormai la stagione neorealista era terminata e anche se c'erano ancora diversi anche critici o autori che erano rimasti affezionati ad un certo modo di di fare letteratura e di scrivere e anche per questo l'uscita di questo romanzo che era forse era atteso come un romanzo resistenziale lasciò sorpresi anche delusi magari quelli che si aspettavano altro appunto si aspettavano qualcosa di più ideologico si usciva da un periodo in cui romanzi neorealisti sulla resistenza erano insomma ce ne erano stati tanti di altissimo valore da parte di grandi scrittori pensiamo appunto al cominciare dal sentiero dei nidi di ragno di calvino ma anche ma anche uomini e nodi di vittorini insomma e altri e quando invece leggendo questo appunto romanzo di carlo cassola si vide che era più una storia d'amore inserita in un contesto particolare naturalmente qual era e anche con delle problematiche piuttosto difficili da discutere in quegli anni è proprio la mancanza di come dire la mancanza di una una posizione acriti acriticamente a favore della di un certo tipo appunto di di resistenza costò a cassola anche l'anatema diciamo di 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 una certa parte politica però questo non non compromisse assolutamente il successo di pubblico che questo romanzo ebbe ha cresciuto anche poi dalla dalla versione cinematografica di comincini leggendolo oggi allora prima di tutto io vorrei dire l'ho riletto per prepararmi a questa sera anche perché l'avevo letto tantissimi anni fa questo romanzo mi era stato consigliato dalla mia amatissima professoressa di lettere della scuola media addirittura a 13 anni però già allora mi mi era piaciuto ricordo perché naturalmente a quell'età ci si appassiona più alla storia d'amore che è descritta molto bene e anche in questo caso non è un amore di tipo come dire romantico passionale è un amore invece sofferto prima di tutto esatto vissuto dal punto di vista della ragazza perché la vera protagonista è mara la ragazza di bube e quindi cassola è una riesce veramente a penetrare nella nella mente nella psicologia nei sentimenti nelle emozioni di questa ragazzina di 16 anni che passa dall'essere una ragazzina anche un po come dire superficiale frivola a incontrare invece non solo l'amore ma anche la sofferenza e il dolore e quindi a a maturare molto molto in fretta e questo poi appunto il il nucleo più profondo sono d'accordo con te di questo romanzo poi naturalmente come si dice da questo punto di vista è un romanzo formativo perché questa ragazza si forma nel dolore nel nella sofferenza e e quindi alla fine cresce la sua crescita lasciandosi alle spalle un mondo di sogni di desideri frivoli di fantastici e diventa una donna e quindi dal mio punto di vista cassola in come si inserisce questo questo romanzo nella dicendo guardate che il significato della vita e sacrificio e dolore e questo è un po il messaggio dell'opera io penso tu che non so che dici no no sono d'accordo con tema poi credo che la bellezza di questo romanzo perché rileggendolo mi sono accorta prima di tutto che è un bellissimo romanzo al di là poi dei messaggi dei significati che perché cassola è bravissimo come dicevo prima fin dalle prime pagine cattura l'attenzione cioè mi sono trovata a a leggere ad andare avanti nella lettura anche se conoscevo la storia quindi non c'era la curiosità in me di sapere né come andasse a finire ma neanche di conoscere poi il prosieguo perché la trama l'intreccio me lo ricordavo ma proprio lui è riesce a catturare con questa resa davvero molto molto abile e molto acuta e nello stesso tempo penetrante della proprio dei sentimenti di questa ragazza è molto realistico anche in queste descrizioni per esempio dei rapporti familiari ecco nella prima parte si si descrive si racconta un po' quella che è la la famiglia di di mara con questo fratello maggiore sante che è morto dall'inizio del romanzo è un'assenza viene spesso evocato sia dai compagni partigiani da bubbe stesso che era stato un suo amico ed è una presenza che aleggia no questo giovane morto durante la resistenza il fratello maggiore di mara e lo stesso rapporto di mara con il fratello minore vinicio che è insomma abbastanza conflittuale con i genitori con una madre resa arida dal dolore che non riesce a superare il dolore per la morte del figlio e quindi verso di lei è piuttosto distante fredda e mara soffre molto molto di questo anche se non lo dà a vedere e si atteggia a persona disincantata ma in realtà soffre moltissimo questo atteggiamento della madre e il padre che è una figura secondo me molto interessante il padre di mara anche lui è stato un antifascista è un comunista è amico di bube e sostiene anche mara nella sua nel suo fidanzamento insomma con questo ragazzo anche dopo che anche dopo i problemi che tu hai ricordato i problemi con la giustizia che che bube si trova ad affrontare problemi naturalmente giustificati da quello che lui ha fatto da da quello che ha commesso non vogliamo neanche dire in questa in questa sede per non svelarlo ecco il padre di mara che poi noi oggi immaginiamo noi padre di una ragazza grande io almeno me l'immaginavo come un uomo diciamo quasi anziano no invece a un certo punto alla metà del libro qua si vede come sono cambiati i tempi si descrive quest'uomo che che si è sbarbato rivestito e che così dimostrava molto meno dei suoi tutti aspetti dei suoi sessant'a dei suoi quarantacinque anni quarantacinque anni più giovane di noi cioè capito e invece viene mostrato fin dall'inizio come un uomo di mezza età un uomo maturo e poi veniamo a scoprire che ha quarantacinque anni quindi poi c'è la rappresentazione della vita di campagna insomma è davvero è un romanzo che restituisce un'epoca e restituisce un momento e a questo fascino della non so di quel periodo almeno io lo lo subisco come appassionata di non solo di romanzi storici ma anche non in maniera melanconica però c'era in maniera no guarda ma no assolutamente non è un romanzo melanconico però non lo so in me un certo non lo so una punta di distruggimento nel nell'evocare quel mondo così rurale in me insomma funziona un po' a effetto devo dire ma è piacevole una sensazione molto molto piacevole tante appunto che si va avanti anche quando si raccontano i primi turbamenti ad esempio i primi turbamenti amorosi anche sessuali della giovanissima amara Cassola è molto fa con molta delicatezza però nello stesso tempo anche con in modo penetrante ecco un grande scrittore devo dire sì però io penso una cosa intanto secondo me dovremmo dire qualcosa di inesatto così provochiamo qualcuno che dice che state dicendo perché forse è l'unico modo perché se lo dice però adesso no infatti vabbè ma perché abbiamo eh uno due tre io quattro commenti dico eh ne leggo cinque ma ne vedo solo qua eh Patrizia Tocci dice che il dolore è un maestro esigente e gli altri dicono buonasera e poi c'è un quinto commento io direi a Patrizia che potrebbe anche intervenire qui con noi basta che ne sa molto più di ne sa molto più di me appunto anche io no volevo dire un'ultima cosa che mi ero appuntato perché tu mi costringi pure a studiare che non fa brutta figura di solito improvviso no nel senso che mi era appuntato questo non so che eh io rileggendolo e l'ho letto proprio questo fine settimana che ero in Friuli eh l'ho finito a leggere le ultime cinquanta pagine e guardando quei paesaggi e ricordate ho detto ma guarda e come Cassola decide descrive benissimo eh quei paesaggi e che ti permettono di veramente di immaginarle i luoghi e una questo è un primo aspetto un altro parla talmente bene di questi personaggi che ci sono simpatici cioè ce li fa voler bene non c'è mai una frase che li mette come dire in cattiva luce e poi secondo me la critica la dico io perché se no tu non lo dirai mai la critica letteraria si può dire di sinistra eh allora l'ha stroncato secondo me eh eh questo me lo so dovuto scrivere perché non perché non hai capito che quello che Cassola parlava di eh di momenti piccoli quotidiani e descriveva è un tema gigantesco come quello del reinserimento di una persona che aveva fatto la guerra cioè è come i film americani che descrivono il reinserimento di persone che avevano combattuto in e in Vietnam cioè praticamente per me eh Cassola dice la vita a che serve cos'è la vita è un susseguirsi di dolori di delusioni di infelicità di sperazioni però ci sono anche delle piccole gioie delle speranze a volte degli del coraggio l'entusiasmo e soprattutto come tema generale anche anche questo poco eh secondo me compreso la fedeltà che è il valore che copre tutti non so che ne pensi. Sì guarda sono perfettamente d'accordo con te eh anche se io eh la critica di sinistra dell'epoca marxista diciamo la 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 capisco anche perché in effetti in certi passaggi Cassola attraverso le parole soprattutto di Bube è abbastanza feroce nei confronti in particolare del partito del partito con la più maiuscola che all'epoca naturalmente del partito comunista a cui apparteneva la maggior parte della degli ex partigiani eccetera e al suo atteggiamento appunto nei confronti di questi soprattutto giovanissimi come Bube che avevano affrontato la resistenza con una certa da un qualche punto di vista anche diciamo immaturità e che non avevano poi avuto una guida e un aiuto nel nel reinserimento successivo e ci sono delle parole molto dure quando Bube in carcere a un certo punto in Mara va a trovarlo e lui a un certo punto lei gli porta dei dei pacchi anche da parte dei suoi compagni e lui li respinge dicendo loro non mi hanno sostenuto non mi hanno aiutato se io mi trovo qui è per colpa loro ed è un giudizio davvero molto duro e io capisco benissimo che chi magari da pochi anni era uscito da quell'esperienza e magari era stato anche un capo politico aveva gestito aveva dovuto gestire con tutte le difficoltà quel periodo si sia sentito anche offeso da alcuni passaggi del romanzo non dobbiamo dimenticare che si tratta di un romanzo non dobbiamo dimenticare che quelle parole erano in bocca ad un giovane un ragazzo in carcere con una condanna pesante e che diciamo erano sono abbastanza comprensibili però in effetti dietro quelle parole sembrava di scorgere la 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 il punto di vista dell'autore perché molto spesso accade che si confonda il punto di vista del personaggio con quello del dell'autore e alcune volte questo a questa confusione è anche giustificata quindi da questo punto di vista io ripeto capisco i sentimenti di chi magari si è sentito ha potuto sentirsi offeso da o ferito da questa interpretazione dei fatti tra l'altro anche perché Carlo Cassola nel raccontare questa storia si è ispirato a due personaggi veri due personaggi reali un partigiano e la sua ragazza adesso non ricordo i nomi lei sicuramente nome di battesimo nada non mi ricordo se nada giorgi qualcosa del genere il nome di lui non lo ricordo perché questi due che poi tra l'altro hanno anche protestato per il fatto che la storia non era stata riportata fedelmente ovviamente una protesta assurda perché Cassola ha scritto un romanzo quindi scrivere un romanzo vuol dire magari prendere ispirazione anche alla lontana da una storia vera ma non essere tenuto a raccontarla nel dettaglio in maniera fedele altrimenti sarebbe stato un saggio e non un romanzo però ecco ci furono anche polemiche polemiche del genere essendo una storia vera riportata in quel modo ripeto sì 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 non so se hai trovato nel studiare io sono stato alla eh alla casa materna di Pasolini a Casalza eh domenica ah sì eh casa Colussi eh e Pasolini fu uno di di quelli che l'attaccò più fondamentale in maniera più dura eh lo lo attaccò per per un motivo diciamo di tifoseria eh Pasolini era un grande tifoso anche di calcio un grande un giocatore perché lui voleva che vincesse il premio strega perché non l'abbiamo detto colpevolmente eh la ragazza di Bube ha vinto il premio strega 1960 e Pasolini faceva il tifo per Calvino eh perché quell'anno era candidato eh il libro di Calvino mi sembra il cavaliere inesistente ma non mi ricordo quale mi sembra e e lui espresse un parere praticamente gli disse Pasolini tu hai scritto un romanzo novella duemila perché invece di parlare della resistenza e e hai parlato di sentimenti semplicità vita e e lui Cassola invece di suarti che mi avete frainteso eh ehm non è proprio così non sono un diffamatore della resistenza e come come scrisse eh il eh il migliore Togliatti no? Togliatti lo definì un diffamatore della resistenza eh e questo forse ce lo fa rendere anche un po' più tra virgolette simpatico ma non perché eh perché ebbe il coraggio anche di 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 esprimere quello che il ruolo dello scrittore che non era doveva essere per forza militante. Certo non deve essere il portavoce di una eh ideologia politica assolutamente eh certo definirlo diffamatore della resistenza è forte anche perché eh sembra quasi voler sottintendere una una eh un intento eh voluto di diffamare la resistenza ehm non mi sento ovviamente in grado di di dire se Cassola avesse scientemente voluto criticare la resistenza eh però prima di tutto è un romanzo ambientato dopo la guerra quindi non si parla della resistenza in atto si parla di alcune conseguenze di violenza di ritorsioni di vendette che insomma che ci sono state come purtroppo normale dopo una guerra di quel genere con tutti gli odi gli strascichi le violenze eh che c'erano state e credo che ehm in un certo senso Pasolini avesse anche indovinato ehm la sua critica è stata ingenerosa eh paragonando eh la ragazza di Bube a a un feieton o comunque a un romanzo sentimentale questa è la mia considerazione lui lo no no ma lui veramente eh non con quelle parole però lo criticò in quel senso ma effettivamente eh non non credo che Cassola comebbe ad ammettere abbia voluto fare un romanzo sulla resistenza questa è una storia d'amore ambientata in quel periodo e forse eh Cassola ha anche approfittato tra virgolette per far scaturire alcuni suoi giudizi non proprio positivi su alcune vicende che eh avevano riguardato gli ex partigiani dopo la guerra però credo che questo romanzo non debba essere giudicato per secondo quell'aspetto è un romanzo complesso che che soprattutto un romanzo di eh crescita personale di eh di questo personaggio femminile di questa protagonista Mara ed è questo il nucleo più importante chi eh si accosta alla lettura del romanzo credendo di eh leggere un romanzo neorealista sulla resistenza eh è ovvio che va incontro ad una delusione e non può avere un giudizio positivo ora io devo dire non non sono una è un romanzo che secondo me un un ottimo romanzo e come dicevo prima è avvincente e si si legge con molta con molto piacere scorrevole esatto scusa se ti interrompo io volevo far notare un altro aspetto come hai detto tu è un è un romanzo scritto in maniera semplice e e questo ha portato anche che ora è poco letto negli ultimi anni ma allora fu molto letto e veniva considerato eh un romanzo così di poco valore e letto da secondo me invece ha contribuito anche al fatto che alcuni italiani si avvicinassero alla lettura ora ti ora ti dico faccio un paragone spero di prendermi qualche critica che sto facendo i paragoni ma provocando qualche purista qualcosa non arriva niente allora ora ti ti dico una cosa io ho letto Andrea De Carlo non ti sento più non mi senti ora sì io ho letto Andrea De Carlo ti scandalizzi no io no non l'ho letto ho il libro lì ma non l'ho letto non letti diversi perché era ora dico una cosa di personare era una era un periodo della mia vita un po' triste eh per delusioni finanziarie no no per delusioni e quindi volevo leggere cose abbastanza semplice e ho letto De Carlo da intellettuale da quattro soldi ho detto va boh e secondo me il cassola potrebbe essere l'Andrea De Carlo di oggi scritto in maniera semplice di temi che riguardano l'amicizia l'amore eh leggera ecco perché capisco che sono aumentati chi ci sta da quando ho detto questa cosa sono aumentati di cinque i come dire chi si che il numero delle persone che ci ascoltano e quindi Cassola era uno che veniva un autore che veniva letto da anche dalle persone poco istruite ecco perché forse la critica di eh di Pasolini e di una certa intelligenza ecco sì posso posso concordare con con te eh mi dispiace di non non avere altri però volevo leggere magari qualche passaggio proprio per per far vedere come nonostante non sia un romanzo neorealista però eh Cassola è anche molto bravo nel per esempio nei dialoghi nel costruire esatto credibili verosimili vivaci ehm e anche appunto eh in alcuni casi anche divertenti sai come l'ha definito ho trovato scusa ho trovato una cosa che sai come l'aveva definito Calvino? Un romanzo di atteggiamenti democristico frutto di atteggiamenti democristiani vabbè certi giudizi sono anche datati perché sì no no una frase del genere eh sembra anche come dire anzi il gruppo sessantatré qui c'è la cesura eh quindi di cui faceva parte anche Vassalli sai come l'ha soprannominato? Liala sai cos'è proprio autore romanziosa e lui in una famosa trasmissione intervista alla RAI disse rispondendo alle critiche il punto non è essere a favore del comunismo del fascismo ma essere a favore della vita questa l'ha finita ad affossare dopo aver detto questo l'hanno finita ad affossare vabbè stavo dicendo che un romanzo che mi piace mi è piaciuto non ci vado matta cioè non lo considererei un capolavoro del novecento nel senso che a mio parere ci sono i romanzi che sono molto molto superiori a proposito di Vassalli per esempio di cui abbiamo parlato l'altra volta ho finito prima di rileggere questo ho letto un romanzo che dei meno famosi un infinito numero quello che ha per protagonisti Virgilio invece scenate che fanno i viaggi in Italia devo dire veramente molto originale molto ecco lì insomma si si scorge anche ma detto ciò adesso vado a leggere un un brano del romanzo verso la metà ho aperto a caso e siamo nel momento in cui Mara ha dovuto separarsi da Bube dopo aver trascorso due giorni da sola con lui in campagna e lui è dovuto fuggire perché appunto è ricercato e i suoi compagni di lotta lo fanno espatriare Mara rimane sola e torna al suo paese dalla sua famiglia ma non si trova bene come prima perché non è più la ragazzina di fino a pochi mesi prima che giocava scherzava e la mia figlia di giocava con i compaesani e gli amici aveva i suoi primi corteggiatori eccetera si sente in un certo senso superiore agli altri perché lei ha già avuto un'esperienza e fidanzata no e quindi guarda un po' tutti dall'alto in basso e soffre moltissimo per la mancanza del finanziato. Lei sta in questo brano e alla chiusa, giù sotto casa sua dove ha l'orto con il suo fratellino Vinicio e arriva in quel momento un suo antico corteggiatore, un ragazzo del paese che continua a starle dietro, di nome Mauro. Gli altri orti erano come il loro, un breve appezzamento di terra accinto da uno steccato e chiuso da un cancelletto. Si susseguivano lungo il folto della macchia da cui sbucavano i tronchi dei pioppi, gritti e nudi, con appena un ciuffo di foglie in cima. A un tratto scorse Mauro che scendeva per il viottolo. Si affrettò a chiamare Vinicio perché non voleva farsi trovare sola. Il fratello non rispose. E lei? Vinicio dove ti sei cacciato? Non lo sai che nel torrente ci hanno visto una serpe lunga così? Il fratello non rispose nemmeno questa volta, ma poco dopo lo vide sbucar fuori. Che serpe? Diceva spaventato. Che serpe? Una serpe lunga di qui a lì. Vacci, vacci a cercare i granchi, poi vedrai cosa ti capita. Bugiarda, disse il ragazzo, ma rimase a girellare nei pressi. Mauro si avvicinava cauto e quasi furtivo, come se non fosse ben certo dell'accoglienza che avrebbe ricevuto. Da un po' di tempo era a casa e così le stava di nuovo dietro. Sapendo la fidanzata non osava più metterle le mani addosso. Si contentava di far discorsi sporchi. Spinse il cancelletto ed entrò nell'orto. Stai attento a non pestare le piante, gli disse Amara sgarbatamente. Ehi Mauro, è vero che nel torrente ci sta una serpe? Lo interpellò Vinicio. Sì, rispose Mauro. Una serpe che buca le ragazze e si mise a ridere. Teta, mai bucato? Fece rivolto Amara. Non so nemmeno di che parli. Sentila come innocente. Lo sai almeno cosa gli succede alle ragazze quando si sono lasciate bucare dalla serpe? Ma lei era scomparsa nel folto dei pomodori. Vuoi che ti aiuti? Disse con voce gentile. Voglio che ti levi di torno. Come mai ti sei fatta così superba? Ma guarda un po'. Madame Stoppa si è fatta superba. La chiamava così per via dei capelli. Madame Stecchia ha messo superbia. Era un'altra allusione ai capelli. Madame, senti, se non ti va come son fatta, perché mi giri sempre intorno? Chi è che ti gira intorno? E allora che ci fai nella mia chiusa? Vattene nella tua. Ora ci vado. Ma non si mosse di lì. Ecco, quindi c'è questo battibecco, no? Questo botte e risposta tra due ragazzi, molto, come dire, potrebbe essere anche scritto ai nostri giorni, che a parte qualche parola ovviamente un po' datata. Questo per un piccolo saggio dell'abilità, della bravura di Cassola nel rappresentare questi incontri e questi dialoghi. Ecco, molto bravo, davvero. Dai, allora diciamo che abbiamo sdoganato anche Cassola, va bene? No, nel senso, a me è piaciuto e da appassionato anche della resistenza, io ho apprezzato molto invece il modo in cui lui ha voluto rappresentare quell'esperienza, vissuta direttamente, perché lui l'ha vissuta, ha partecipato alla resistenza. Non di farlo in maniera cruda, ma in maniera, come dire, più leggera inserendoci una vicenda sentimentale e allo stesso tempo realistica. Io penso che... Sì, e poi, come dicevi prima, volevo riprendere una tua annotazione, secondo me molto giusta, il tema della fedeltà. Fedeltà di Mara che ad un certo punto rinuncia ad un'altra vita che avrebbe potuto essere più facile, anche più lieve dal suo punto di vista, per restare con Bube ad aspettarlo, ad aspettarlo per lunghi anni. Io ricordo che quando lessi il romanzo per la prima volta da ragazzina restai un po' male, perché mi immaginavo un finale, un lieto fine di tipo tradizionale, e invece è un finale molto, anche duro, ecco, se vogliamo. È per niente... Sì, tanto, sì. Per niente rosa, alla liala, non ha nulla a che fare. Non è sì, infatti. Vabbè, se sei d'accordo potremmo anche chiudere, abbiamo annoiato abbastanza, anche se abbiamo ancora una decina di persone che ci seguono. Però abbiamo raggiunto i 40 minuti, quindi fra 20 secondi... In due e in massimo, certo. Se fossimo di più potremmo... Quindi invece adesso... Se vuoi fare uno spot per le prossime appuntamenti... Ti faccio la sigla della pubblicità, ma che no. No, non ne so. Vabbè, adesso per la prossima lettura condivisa aspettiamo un attimo, perché oggi ci avete davvero deluso. Guarda, ci hanno lasciato solo a fare... E mettiamo solo romanzi difficilissimi, tipo l'Ulisse e altri... No, mi sono, mi chiudo. No, adesso il prossimo appuntamento sarà invece con l'altra rubrica che abbiamo gli scrittori da conoscere e stavolta è toccato a me sceglierne uno. Insomma, stavolta sono andata un po' sull'hard, no? Non l'hard. Attenzione! No, perché lì forse avremo più... No, scherzo. Avremo più. No, insomma, sul tosto dal punto di vista, diciamo, dell'hard-boiled, come... Esatto, sì, sì. Noir, no? Il noir americano è con uno dei miei scrittori preferiti, secondo me un grandissimo. Dashiellet, mette. No, vabbè, quello è un classico, uno recente, James and Roy. Quindi ti tocca studiare a Roy. Lì ci sarà veramente tanto da dire, anche se saremo solo io e te, saremo un'ora e mezza. Va bene, ti farò contenta. Ti farò contenta. Eh, probabilmente sono i primi di aprile, ci vediamo con Erlon. Va bene. Credo che possiamo chiudere qui. Quarantuno minuti sono sufficienti. Ringraziamo i dieci, quindici, venti, perché sono una ventina di persone che ci hanno seguito, perché sono molte di più, forse, e soprattutto quelli che ci hanno seguito fino alla fine. Se abbiamo detto qualche stupidaggine, la colpa è tutta mia, se abbiamo detto delle cose intelligenti, il merito è tutto di Elsa. Grazie, grazie mille e buona serata. Ciao, buona serata. Ciao, ciao Angelo.